bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xuser e oggi ragazzi per la felicità di tantissimi di voi che volevano qualche informazione extra su quello che riguarda Fortnite portata su Nintendo Switch beh ragazzi è uscito qualcosa oramai ragazzi lo sapete Fortnite è praticamente su qualsiasi piattaforma su qualsiasi console ad eccezione fatta della console della grande N quindi in poche parole di Nintendo Switch abbiamo sentito un sacco di rumors in questi mesi che parlavano di un possibile trasporto di questo gioco da PlayStation Xbox anche su Nintendo ma per adesso non avevamo nulla di ufficiale abbiamo visto qualche giorno fa un video leaks che vi ho pubblicato dove mostravamo appunto delle fotografie che sono state scattate accidentalmente e anche dei piani per parlare di Fortnite all'evento E3 quello che inizierà il 12 giugno a Los Angeles e dove anche Nintendo annuncerà i suoi nuovi titoli per appunto la sua console di punta fino a oggi ragazzi le notizie erano solamente sì potevano essere anche veritiere ma erano più o meno diciamo delle grosse voci di corridoio cioè Nintendo non aveva mai ufficializzato la cosa beh ragazzi ieri nello shop di nintendo è apparso una roba del genere sbronk e tu dici xuder che che caspita è questa roba qua raga questa qua praticamente non è nient'altro che un update di Fortnite che è uscito ieri nello shop di nintendo solo il problema è che nintendo non c'è fortnite ancora e quindi dici what questo ragazzi credo che sia la conferma ufficiale e definitiva che fortnite arriverà su nintendo switch ve lo posso credo confermare quello che state vedendo qua alla mia sinistra è appunto il file dell'aggiornamento 4.3 di fortnite su nintendo switch senza però che ci sia ancora fortnite su nintendo switch quindi vuol dire che qualche sviluppatore qualcuno ha cliccato per sbaglio il tasto di pubblicazione al posto che fare un update interno quindi provandolo per i propri sviluppatori l'ha reso pubblico per tutti ovviamente è impazzito il web quando ha visto una cosa del genere quindi ragazzi fortnite su nintendo switch sarà ufficialmente disponibile non sappiamo ancora da quanto ma sicuramente ragazzi ne sapremo di più dal 12 giugno quando appunto nintendo rivelerà i nuovi titoli all'evento noi ovviamente rimarremo collegati con l'evento di los angeles vi daremo vi darò tutte le notizie in tempo reale ragazzi quindi qualsiasi cosa sia degna di essere tradotta in italiano e detta a voi la saprete su questo canale beh ragazzi io spero che questo video vi abbia veramente soddisfatto e che tutti i possessori di nintendo switch adesso siano felicissimi di sapere che il tanto nostro amato fortnite sarà disponibile anche per voi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video ve lo ricordo un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale per rimanere super aggiornati su fortnite e su fortnite per android noi ci vediamo in live ciao 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 ciao